Globalizzazione, è possibile una rivoluzione nei consumi? Intorno a questa domanda, fondamentale per la congiuntura economica che stiamo attraversando, si articoleranno le relazioni di quattro esperti che giovedì 18 aprile alle 16 interverranno al seminario organizzato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, nel proprio auditorium di Piazza San Martino. Il seminario, presentato questa mattina, vedrà nella veste di relatori il dottor Luigi Accattoli, scrittore e collaboratore del Corriere della Sera, Fabrizio Galimberti, editorialista del Sole 24 Ore, Luigi Lazzareschi, amministratore delegato Sofidel e Alessandro Volpi, professore di storia contemporanea all'Università di Pisa. Il convegno, a numero chiuso e partecipazione gratuita, è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati della provincia e dall'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Lucca. Per le iscrizioni, segreteria.chioccelascudo.org